Mamma mia, vieni incontro, vieni incontro la stazione, quando scendo dal vagone voglio scendere in braccio a te. Quando scendo dal vagone voglio scendere in braccio a te e ti voglio raccontare la mia vita giù in Italia. La mia vita giù in Italia, te la voglio raccontare. La mia vita giù in Italia, te la voglio raccontare. La mia vita giù in Italia, te la voglio raccontare. La mia vita giù in Italia, te la voglio raccontare. Grazie a tutti. 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 Oh, no, no, non piangere, no, ci rivediamo fra poco e fai come gli indiani, eh? Oh, no, 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 no. Bravo, 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 piccolino mio, vieni. Mamma. Carpi Giuliana. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Cavallari Carolina. Va bene. Sono arrivate? Sono arrivate tutte? Potresti anche rispondere quando ti chiedo qualcosa. Cosa hai detto? Non ho sentito. No, 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 no. Ci occupano la stanza da bagno? Ci occupano la stanza da bagno? Essa è la gasolina. Oh, no, 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 no. Ci occupano la stanza da bagno? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Tanto più che l'hai trovata, quella che ti protegge. O forse non lo sa neppure lei. Posso insegnarlo anche a te, sai? Voi altre di Cremona siete buone soltanto a fare delle chiacchiere. E chiudi quella bocca. Ballavati quella faccia da scimmia. Gli occhiali. Gli occhiali. Gli occhiali. Non abbiamo cominciato a usare. No, è stata quella di Novara. Novara è vero. Silenzio. Fate silenzio. Silenzio. Lo sapete, il contratto di lavoro parla chiaro. Qui si lavora, non si litiga. Sì, bel discorso. Vorrei vedere voi. Silenzio. Tutto questo chiasso. Ma cosa sta succedendo qui? Abbiamo licenziato questa squadra. Perché? Una delle solite caniare. Sono queste che hanno cominciato. Non è vero. Difendono sempre le locali. Le locali lavorano meglio di voi. Eccolo, senza, sono loro che le proteggono. Sono d'accordo. Facciate che li facciate. Silenzio. 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 È il padrone. Raccomandiamoci a lui. Ma che figura facciamo davanti a loro? Che mi importa? Io a casa senza soldi non posso tornare. La vuoi capire? Fare la bigliacca. Lasciami. Aspettate un momento. Per loro è colpa nostra. Scusi, lei è il padrone, vero? Perché? Perché se è il padrone dipende solo da lei che ci mandino via o no. Se due ragazze si sono tirati i capelli, le sembra giusto di toglierci il pane a tutte quante. Lo sapete, quando capita qualcosa la paga tutta la squadra. Ma è assurdo. Credete che sia facile tornare indietro così? Non siamo mica venute qui in villeggiatura. Ci rovinate? Chi è stata la prima? Io. Sono stata io. Vado a fare la valigia e me ne vado. Ma loro lasciateli in pace. Va bene? Un momento. Per questa volta vi perdono. Chiedete scusa a lui e tornate al lavoro. Grazie. Svelte, al lavoro, al lavoro. Grazie. 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 Aspetta un momento tu. Da dove vieni? Da Milano. Hai sempre vissuto a Milano? Sì, sempre. È la prima volta che vieni a lavorare qui? Sì, perché? Non so, mi pareva... Quanti anni hai? Diciannove, quasi venti. Vuoi sapere qualcos'altro? Aspetti me tu. Va pure avanti. Senti un po', da ieri volevo chiederti... Che cosa? Vedi, è difficile spiegatelo. Ma quando ti ho vista la prima volta, io... Mi scusi, devo raggiungere la mia squadra. Brava, se non era per te, ci aveva buttato fuori tutti quanti. Avete visto il padrone come la guardava? Beh, si capisce, lei è il fascino segreto. Che voleva? Ti hai chiesto un appuntamento? No, nessun appuntamento, sono venuta qui per guadagnarmi la paga e basta. Oh, non darti tante aria, a me non sarebbe dispiaciuto far colpa sul padrone. Buongiorno, signor Mario. E queste chi sono? Arrivano adesso? No, c'è stata una delle solite liti, le avevamo licenziate. Ah, al solito, mio zio non scherzo, eh. Ma che? C'è stato proprio lui che l'ha fatta rimanere. Lui? E che succede? Questa è la fine del mondo. Anche noi siamo rimasti molto meravigliati. Ma io l'ho capito. Che cosa? Mamma. E chi sarebbe? La quarta, quella che cammina là sull'argi. Ha saputo scegliere il vecchio. Ciao, eh. Arrivederla. Mario. Ah, sei tutti, eh? Sono te giorni che non ti si vede. Sì, sì, hai ragione, ma ho avuto tante cose da fare. Stai attento che lui ti cerca. E perché? Che vuole? Ah, non lo so, chiede sempre se sei tornato. Ma ti ha detto qualcosa? No, niente. Sai come è tuo zio. Con me non parla mai. Si può dire che non ci siamo mai parlati. Ma che può volere? Hai fatto qualche cosa. Ma no, cosa vuoi che abbia fatto? Eccolo. Non facciamoci trovare qui. Andiamo di là. Ciao, zio. Finalmente. Ti aspettavo. Sì, me l'ha detto la zia e posso sapere il perché? Non te lo immagini? No, veramente. Guarda. Che cos'è? Una cambiale. Beh, mi pare che non ci sia niente di grave. No, non c'è niente di grave. Soltanto che invece di firmarla col suo nome, l'ha firmata col mio. Lo sai che per questo scherzo posso mandarti in galera? No, Pietro. Ma che dici? Non aver paura. Non c'è bisogno che lo mandi io. Tanto prima o poi in galera ci finirà da solo. Adesso piange. La colpa è sua. Se ti avesse sempre trattato come meritavi... Hai ragione, ho fatto male. Ma non mi pare il caso di prenderla sul tragico. Mi sono servito del tuo nome perché ero sicuro di poterla ritirare. Mi serviva del denaro. Non ti basta quello che ti dà tua zia? Non basta mai. E poi avere soldi a credito è una grande emozione. Metti una firma su un pezzo di carta e ti contano i soldi. Io non ho credito e per questo ho messo il tuo nome. È bello essere tanto stimati. Deve dare soddisfazione. Che cos'è questa commedia? Meno chiacchiere. Se ti ci provi un'altra volta ti denuncio, capito? Va bene, va bene. La colpa è delle donne. Vedi? Quelle che piacciono a me costano. Tu invece dai un'occhiata, scegli e ti dicono pure grazie. Che cosa vuoi dire? Niente, niente. Ho sentito di certe ragazze licenziate. È bastato un tuo ordine per farle restare. Quelle ragazze ti saranno riconoscenti, no? Chi ti ha detto queste sciocchezze? Non è vero, forse? Ma che c'è di male? Sono i vantaggi di essere il padrone. L'ho vista, sai? L'ho vista. La brunetta che ti piace? Mica male. Hai buon gusto, zio. Auguri. Imbecille. Eravamo sicure che oggi saresti rimasta in branda, invece pare che gliela fai. Si vede che hai proprio bisogno di lavorare. Sì, ne ho proprio bisogno. Chi hai lasciato a casa? Mia madre. Soltanto? Soltanto. Soltanto? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Dove andate belle figliole? Andiamo a prendere la corriera per Novara. E lei dove va? Anch'io vado a Novara. Volete un passaggio? Possiamo fidarci? E di che avete paura? Siete in quattro? Allora. Ma dove andate? Il signore è tanto gentile da darci un passaggio fino a Novara. Coraggio bellezza, non faccia perdere tempo alle signore. Tanti, sali, cosa aspetti? Bisogna che vi mettiate in tre dietro, se no non c'è posto. Oh, che corsa ci ha fatto mancare il piatto. A me piace correre così, è divertente. Chissà quanto ti tocca aspettare adesso. Io non ho fretta. E voi? Oh, noi nemmeno. Grazie, non fumo. Posso sapere perché va a Novara? Così, dopo tutta una settimana di lavoro non è divertente restare in cascina. E l'aspetta qualcuno? Nessuno, è la prima volta che ci vado. Allora bisogna che io l'accompagni. No, sono abituato ad andare sola. Male, la solitudine è una brutta malattia. Ma basta essere in due e si guarisce subito. Non le pare? Non crede che ho ragione? Ecco, qui fanno i migliori gelati di Novara. Che bellezza, ce l'ho per lei. Ma si capisce che ve lo offro io. Avanti, scendete. Aspettile. Perché? Antonio, Antonio. Com'è, signor Vallo? Tutto quello che consumano le signorine è in conto a me. Tutto, capito? Fammi fare una bella figura. Addio. Ma che forza, si perdi? Che ignorante. Credevi di averlo incantato col tuo fascino? Non è il mio tipo. E adesso che facciamo? Beh, visto che ci paga il gelato, prendiamocelo. Ti hai ragione. E non solo il gelato, la birra, il vermo, le paste, tutto quello che vogliamo. Cameriere? Cameriere? Cameriere! Cameriere! Che nausea, mi sento male. Eh, sfido, ti sei intrippata tutti quei gelati. Quanto era meglio se andavamo al cinema? Intanto quella, mi par di vederla, seduta come una principessa su quella bella macchina. Su. Non vorrà fare davvero tutta la strada a piedi? Guardi che siamo a 15 chilometri da Novara e a 12 dalla Cascina. Non mi importa. Oh, non facciala stupida. Tante storie per un bacio. Lei è un... Sì, un mascalzone. Ha ragione. Lo riconosco. Ma lei è tanto carina. Se ne vada! Se ne vada! È inutile gridare. Mi lasci, mi lasci. Le donne che resistono mi piacciono di più. Che c'è? Non cammina? Dove va lei? Verso Casalina, perché? Mi può dare un passaggio fino alla Corriera per Novara? Ah, salga pure. No, grazie, mi metto dietro. Ma starà scomoda lì? No, sto benissimo, grazie. È andata male, eh? Tutto è così. Fate le spiritose, vi lasciate incantare dalla fuoriserie e poi quando vi piantano in mezzo alla strada c'è sempre un fesso che vi rimorchia fino a casa. Beh, ha perduto la voce? Lo sa che è successo tre anni fa a una ragazza come lei da queste parti? La mattina dopo l'hanno trovata strangolata in un fosso. L'ha pagato un po' cara, no? Oh, finalmente! Cos'è successo? Eh che ne so, non va. Questo accidente di motore non va mica. E va bene, la faremo camminare senza motore. Mi dispiace ma adesso deve scendere, dobbiamo fare manovra. Bisogna agganciarla al telaio. So io, so io, dia qua, non è mica la prima volta che mi succede. Ecco, ma no, ma che l'attacco belle sì. E va bene, non si arrabbi. Ma belle sì, è sempre qui, io l'attacco. L'ha visto? Ecco, l'ha visto? Ecco fatto. E adesso dove ci mettiamo? Dove volete mettermi? Rimontate nella macchina? Ah sì, bene, sì, monta, Evelina, dammi il cibo. Su, vai dall'altra parte. Ma dietro non può più stare, mi dispiace. Bisogna che salga davanti, non è per me, è proibito. Ma chi è quella ragazza? E che ne so. Già, tu non sai mai niente. Evelina, piantla. Scommetto che adesso si è pentita, eh? Avrebbe preferito rimanere con quell'altro, no? Beh, si capisce. Io non sono spiritoso ed elegante come lui. Basta, basta, la finisca! Mi scusi? Io credevo che... Ah, senta. Mi faccia il piacere, non pianga più. Se mi commuovo anch'io... Oh, ecco, brava. Mi sento meglio adesso. Mi scusi se ho parlato così. Tante volte non lo so neanche io quello che dico. Non è per questo. Quanto manca la cascina? Siamo quasi arrivati. Ma, scusi? Che ci va a fare lei alla cascina? È lì che lavoro. Mondina? Sì. Strano. Non si direbbe. Eppure. Grazie. Grazie. Sì che magari ha aspettato troppo per farmi vedere un sorriso, ma... Mi dispiace, ero di cattivo umore. Eh, già, capisco. E a ogni modo, spero, volevo dire, se mi capitasse l'occasione di rivederla, mi farebbe molto piacere. Anche a me. Ehi, giovanotto, cosa facciamo? Un momento, un momento, che fretta. Vada, che l'aspettano. Arrivederci. Arrivederci. Senta lei. Vica. Ma non ha altro momento per parlare con la sua fidanzata? Fidanzata? Ha sentito? Grazie per l'augurio. Elena. Dica. Il fattore ti cercava oggi. Sul contratto Mondo le tue generalità sono incomplete. Perché? Che cosa manca? Il nome dei tuoi genitori. Tu sei minorenne. Ah, ho capito. Maria Nardi, mia madre. E basta. Cos'altro vuol sapere? Dove abiti a Milano? Sono obbligata a dirglielo? No, ma può sempre servire. Mi scusi, buonasera. Chissà che voleva da lei il padrone. Per me è chiaro che tra lei e lui... Hai visto come la guardava? E venga la marco apita che cheremo sapere la bailò. Dirà la poter del rio. Bravo, zio. Coraggio. È un tipetto difficile, vero? Io ci ho provato. Ma è andata male. Ci riproverò. Sto attento. Se da zardi a toccarla ti spacco la testa. Pietro. Cosa c'è? Parti? Vado a Milano. Quando torni? Non lo so. Appena avrò finito. Ciao. Sveglia, cavallardi! Sveglia, cavallardi! Sveglia! 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 Mi scusi signora, conosce una certa Maria Nardi? Mi spiace, non la conosco. È da poco che abito qua. Grazie. Ah, sì, Maria, adesso ricordo. Era sola con una bambina. Faceva la lavandaia, poi è andata via, credo, dalle parti della bovisa. Grazie. Prego. Maria? Maria? Ah, sì, molti anni fa. Ma poi se n'è andata. Mi pare via Magenta. Ma è passato tanto tempo. Grazie. Buonasera signore, un buon tavolo. La signora Nardi. Maria Nardi. Nardi? Mi hanno detto di rivolgermi qui. Maria Nardi. Ah, la Maria. Un momento. Aspetti un momento. Mecco. Per di qua, prego. Tu, accompagnalo. Venga. Pronti, i fegatini di pollo? Pronti. Tenali. Grazie. Ho risalto un abisma. Capito. Vuoi stare a tenere la bolla dietro? Bene. Tenata con patate. Maria. Tu. Cosa vuoi? Voglio sapere la verità. Dimmi. Quando ci siamo lasciati, tu aspettavi un bambino? No. Non parlerò, non ti dirò niente. Non hai nessun diritto di sapere, capisci? Parla. Devi dirmi la verità. No. 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 E' tua figlia. Mia figlia. Oh. Oh. No. Perché sei venuto a cercarmi? Non lo so neppure io Un giorno ho sentito un nome E allora? Ho avuto come un presentimento Che il nome non mi usciva più di mente Ho domandato, ho cercato E finalmente sono riuscito a trovarti Perché? Per vedere quello che è rimasto Ecco qua La povera donna che è stanca Di soffrire, di piangere No Maria Ho bisogno di sapere tutto Sapere cosa? Come ho vissuto, quanto ho patito Umiliazioni, fame, vergogna Sapere tutto Sarebbe un po' lungo Mio padre non vuole perdonarmi Ed io non l'ho mai più cercato Come non ho cercato te E allora ho fatto la serva E la faccio ancora Hai visto? Nei primi tempi vivevo presso le famiglie dei padroni Ma non era facile trovarne chi accettassero me e la bambina E quando non trovavo lavoro Non c'era niente da mangiare Capisci? Niente Tu forse non mi credi E non puoi sapere cosa vuol dire Niente da mangiare E una bambina in collo che piange E non sente ragioni Povera creatura Già Povera creatura Adesso ti fa pena Lascia che ti spieghi Ma cosa? Perché mi hai piantata? Perché non mi hai più cercata? Lascia andare Non mi interessa Non voglio giustificarmi E' brutto quello che ho fatto Ma ho pagato duramente Sono stato un debole Non ho saputo ribellarmi Ho sposato la donna che volevano i miei Perché era ricca Hai fatto bene Almeno tu sarai stato felice No Non c'è niente di più squallido della vita di due esseri condannati A stare insieme per sempre Senza amore Ma è inutile parlare di me Dimmi piuttosto Adesso cosa posso fare? Per me? Cosa vuoi fare ormai? Offrirmi dell'altro denaro? L'hai già fatto allora Ricordi? Sarebbe troppo umiliante Lascia andare Non posso Non posso più adesso che ti ho visto Che ho saputo Voglio fare qualcosa per lei almeno Per mia figlia Tua figlia? Come puoi t'amarla così? Che cos'ha di tuo? Credi che ti appartenga solo perché sei suo padre? No Appartieni a me Soltanto a me Elena Ha sofferto molto E tutto quello che ha patito Io me lo porto qui nel cuore Come un rimorso Non potrò mai perdonarti Se non è la causa Quando era piccina Aveva tanto bisogno Di affetto E di carezza Era così fragile Si commoveva E si esaltava di tutto Bisognava tenerla In braccio E cullarla E parlarle sottovoce Perché si addormentasse Ma io ero così intristita Stanca del mio lavoro E della mia solitudine Che solo raramente Riusciva ad essere con lei Come a freddo futto Forse Non l'ho amata abbastanza Un giorno Ho perfino rimpianto Che ci fosse Un'altra volta Ho pensato di uccidermi Ed è stata proprio Elena Darmi la forza Di tirare avanti E adesso mi chiedi Cosa puoi fare per lei Niente Assolutamente niente Ho potuto farla studiare Ha preso il diploma È diventata maestra Maestra? Ma come? Si E adesso è È da certe amiche In campagna Vicino a Novara L'hanno invitata con loro A passare un mese Mi scrive tutti i giorni Quasi E Sta bene Senti Maria E se io la cercassi Le dicessi Che cosa? Tutto La verità Che io sono suo padre Che cosa credi? Che ti butterebbe le braccia al collo? No Tu sei un estraneo per lei Ed è meglio così Io Ho sacrificato la mia vita Per dare alla sua Un ordine Un equilibrio Deve restare tranquilla Solo l'affetto per un uomo Potrà rompere l'isolamento In cui vive Un uomo che la meriti Io prego giorno e notte So che me la porterà via Ma Lei sarà salva E forse potrà trovare Un po' di felicità Senti Senti Dementica che esistiamo Guarda È meglio per tutti Dì Come te la senti La schiena È un bel pezzo Che non me la sento più Angela Cos'hai? Non si sente mai Su Portiamola Sì Portiamola su Piano però Un po' Sì Attenti Pian 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 Così Dai Atenta Su Angela Su Portiamola via Su Dai Forza Dai Dai Attenta Non scivolare Ti dare O morire O non vada O non veda E muore Per Pian L'ho già la terza Che sviene Se fra un'ora Non riprende il lavoro Perde pure la paga Dell'intera giornata È giusto La colpa è sua Se è svenuta È vero Per Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Guarda questo tipo, assomiglia a Gregory Peck. È da un pezzo che ci sta dietro. Oh, scusi. Prego, proprio brava. Dice. L'ha fatto sempre centro. Io faccio sempre centro, ma soltanto al tirasegno. Non vuoi sparare? Signorina. No, grazie. Andiamo a ballare. Oh, sì, andiamo. Andiamo a ballare. Sì, grazie. Ja, ma su. Vieni, andiamo a ballare. No, grazie. No, grazie. No, grazie. No, grazie. Permette. Ancora arrabbiata? Su, non esageri. Quando una è bella come lei deve essere gentile. E poi... E poi che cosa? Sono il suo padrone, no? Anche lei, tutti padroni qui. Beh, padrone per modo di dire. Con lei sono io che accetto gli ordini. Ah, sì? E allora si levi di torno e mi lasci in patio. Aspetti un momento. E che ha paura? Ciao Gianni, come va? Ciao. Così si tira avanti. Ma che guarda. Che cerca. Spera che anche questa volta... E tuo fratello? Scrive che sta bene, che torna presto. Buongiorno. Salve. Anche lei è venuta a ballare? No, devo rimorchiare un camion. È rimasto in mezzo alla strada. Passando di qui ho sentito la musica e sono entrato un momento. Ah, peccato. Allora se ne va subito. No, per carità. Tanto il camion sta lì, non si muove. Lei è quello che va in giro a rimorchiare le macchine ferme? Sì. E le ragazze che hanno bisogno di aiuto? Anche. È un bel mestiere, non c'è che dire. Sì, è un bel mestiere. Perché non le va? Di a retta a me. In certi casi è meglio che lei non si impicci degli affari degli altri. Ah no? Proprio no. Altrimenti una volta o l'altra le può capitare di... Che cosa? Avanti, continui. Cosa mi può capitare? Senta amico, segua il mio consiglio. Adesso basta, su, finitela, andiamo. Un momento, non lasci parlare. Non la sentite? Deve darmi un consiglio. Avanti, tiri fuori, qual è questo consiglio? Senti. Lo sa che lei non mi piace. E non mi fa nemmeno ridere. Aria. Aria! Ma su, andiamo, smettetela. No, venga, signor Mario, non ne vale la pena. Sì, ma sei pazzo litigare con quello lì? È il nipote del padrone. E chi se ne prende? A te sempre il solito. Ciao, Gianni. Ciao. Mi dispiace. A me no. Vuol salire? Ve l'offrirebbe una sigaretta? Ma sì. Grazie. Non mi riconosce? Ma veramente non... Non si ricorda quando ci ha lasciato nel caffè di Novara per andarsene con quella là? Ah, sì. Ho paura di aver fatto una sciocchetta. Perchè? Sarebbe stato meglio se avessi scelto lei. Sempre in tempo per rimediare. Allora andiamo a prendere quel camion. Quale camion? Non mi ha detto che è rimasto là, in mezzo alla strada? Ah, già, quel camion. No, no, non importa. Se ha da fare non perda tempo con me. Su. Beh, quel camion non c'è più. Come non c'è più? Non c'è mai stato. L'ho inventato io, tanto per... Eppure sapesse quanti di quelli lì mi tocca attaccare alla gru. Allora, facciamo un giretto? Come vuole. Di lei mi fido. Non è un complimento. Soltanto le vecchie si fidano di me a Novara. È così pericoloso lei? Beh, pericoloso no, ma... Si capisce? Se mi trovo vicino a una bella ragazza e... Bravo. Dove andiamo? Faccia lei. Senta, conosco un caffè dove fanno i migliori gelati di Novara. Ne ho già sentito parlare. Buona, vero? Vuol vedere la mia cucina? È lontana? No, è qui dietro. Possiamo andare a piedi. Si accomodi. Cos'è, ha paura? Io? No. Ecco, questa è l'officina. Non baglio il disordine. Per adesso ho un socio. Siamo a metà per uno. Ma a lui piace poco il lavoro. Ho paura che presto ci divideremo. E prende tutto lei? Sì. Voglio mettere su una cosa più moderna. Qui un ponte mobile con l'elettrauto. Là una bella stazione di servizio. Completa di tutto. Insomma... Deve essere uno che vuole benzina. Neanche la domenica ci lasciano in pace. Scusi un attimo. Eccomi. Quanti? Dieci litri. Un momento. Prendi il resto. Mi scusi e sono subito da lei. Ecco il resto. Va bene. E... Buonasera. Chi è? È il padrone della risaia dove lavoro. E cosa vuole? Ma non so. È così strano. Tutte le volte che mi incontra mi fa delle domande. Perché? Non lo so. Non ho capito bene. Chissà che cosa penserà adesso che mi ha visto qui. E chi se ne importa? Che pensi quello che vuole? Mi sembra piuttosto nervoso. Che ti è successo? Ah no, non è successo niente. Eccoci arrivati. Peccato. Si stava bene insieme. Ciao, Rina! Si, si stava bene. Ciao. E me lo dici adesso? E quando dovevo dirlo? Quando eravamo soli. Ti avrei abbracciato da toglierti il respiro. A presto. Ciao. Elena, scusa un momento. Che c'è? Ecco, volevo dirti poco fa quando t'ho visto insieme con quel giovanotto. Senta. È meglio che le parli francamente. Non mi piace essere sorvegliata. Sorvegliata? E perché? Perché? Perché è evidente. Tutte le volte che mi vede, anche oggi a Novara. Io non immaginavo di incontrarti. Sì, però mi capita sempre davanti. E anche se lei è il padrone. No, non usare questa brutta parola. Io sono un uomo anziano e tu sei quasi una bambina. E allora si capisce. Mi farebbe pena. Che cosa? Ci sono tanti pericoli nella vita che tu non immagini neanche. Perché mi dice così? Non lo so. Ho l'impressione che tu abbia sofferto molto. E vorrei che non soffrissi più. Non capisco. Perché si preoccupa di me? Perché mi sembri così poco adatta per questo lavoro. Come se tu fossi capitata qui per un errore. Sì, ha ragione. Ma lei come sa tutte queste cose? È difficile dirlo così. Sì, è difficile dirlo così. Ciao Gianni. Ciao Stefano. Io un po' Gianni. Ma che ti è successo? A me? Ah. Ieri è venuto un tale. Mi ha domandato che cosa facevi e quanto guadagnavi. E perché? E che ne so. Mi ha domandato pure chi erano tuo padre e tua madre e ci abitavano qua. Ma chi era? Non gli hai chiesto il nome? Ma sì, me l'ha detto. Adesso non me lo ricordo. È il padrone di una cascina nei pressi di Cameriano. Il padrone di una cascina? Ma perché? Lo conosci? Mi pare di aver capito chi è e comincio a capire anche qualche altra cosa. Pronto? Sì, eccolo. Gianni è per te. Pronto? No, è inutile che insistiate. O importo o niente. Ma lo saprò meglio di voi quello che so fare, no? E chi ci mettete a posto mio? Beltrame? Ah, bene, bell'idea. Mettetecelo a Beltrame. Domenica ci divertiremo. Gli sta bene, sono già quattro e se è seguita così arriviamo a quaranta. Che ti avevo detto, eh? E che? Che è successo? Ma come non l'hai visto? Hanno fatto un altro gol. Ma a te la partita non interessa per niente? No, proprio per niente. Se vuoi andiamo via. Ma no, si sta tanto bene qui. Mi diverto lo stesso. Chi è? Niente. Fai vedere. Avviano, non è importante. Dove l'hai presa? Me l'ha dato il padrone. Ah, il padrone si mette a regalare libri? Ma no, mi ha incontrato e mi ha chiesto se volevo leggerlo. Poi mi ha chiesto anche se volevo andare nel suo ufficio come segretario. E tu che gli hai detto? Ho rifiutato. Meno male, non ci sarebbe mancato che questo. Vedi, io non credo che sia come pensi tu. Sì, lui è gentile come... Forse troppo. Ma qualche volta ha un'aria triste. Imbarazzata. Mi fa quasi pena. Ah, ti fa pena? E allora consolalo. Accetta la sua proposta. Va nel suo ufficio. Ma prima ci passo io. Che vuoi fare? Niente, niente. Non te ne occupare. Buongiorno. Buongiorno. Lei vuol parlare con me? Sì. Ed è inutile che le dica chi sono, vero? Tanto lei sa già tutto di me. Come mi chiamo, cosa faccio. Ebbene. Ma c'è una cosa che ancora non sa. Ed è bene che se la metta in testa una volta per sempre. Elena è una brava ragazza. E chi si azzarda a darle fastidio, io... Le vuole molto bene, vero? Certo che le voglia bene. Ha ragione. È una brava ragazza. Non bisogna farle del male. Ho piacere che l'abbia capito. Eh, lo so. Voi credete di avere tutti i diritti su quelle povere ragazze. Basta un regalo, una promessa d'impiego. Ma con Elena no. Con Elena questo non funziona, glielo dico io. E se lei si permette ancora... Basta! La finisca! Non basta affatto! Non credete di poter prendere questo tono con me. Io non conosco padroni. Siamo due uomini uguali. E le dovrebbe vergognarsi alla sua età. Ma non capisci? Stupido! Battene! Battene! Sì, me ne vado. Ma si ricordi di quello che le ho detto? Sì. Sì. Fai piano, dormono tutti. Tira le coperte di un colpo. Aspetta, la candela. Sì, me ne vado. Saluti! Sì, me ne vado. Marsela Luce! No, no, no. Sì, me ne vado. Ajusta! Ajusta il muoto! Ajusta! Aiuto! 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 Vieni, prendila! Si sono salvati tutti, sì, credo di sì Portateli subito via da qui, avanti, fate presto Chiamate un dottore Dov'è Danardi? Dov'è Danardi? D'vienean! No, no, no. No, no, no. Basta, sto bene così. È ferita, dottore? No, no, niente di grave. È soltanto un leggero stato di shock. No, no, niente di grave. Tieni, ti ho portato la giacca. Grazie. Non vieni a casa? Sì, andiamo. Patti, è un procuro della terra là. Eh, e attento a quel trave, che può cadere da un momento all'altro. Eh, sto attento. Ti sei coperto già abbastanza di ridicolo. Abbiamo sempre vissuto come due estranei, d'accordo. Ma che tu arrivassi fino al punto di perdere la testa per una sgualdrinella qualunque... Sta zitta. Ti sei ridotto lo zimbello di tutti. E io con te. Ma ricordati che questa è anche casa mia. Se vuoi seguitare a frequentare le tue amanti, fallo. Ma fuori di qui! Non è come pensi tu. Ah, no? No, proprio no. E cos'è allora? Eh, non sono tenuto a dirtelo. Del resto è cosa che non ti riguarda. Riguarda solo me. No, anche me. Dimentichi che se tu sei il padrone, la roba è mia. Non farti illusioni. Se credi di poter sperperare il mio denaro con quella là, io non te lo permetterò mai. Mai! Sta tranquilla. Non ti chiederò nulla. Solo una cosa voglio. Che non si parli mai più di questo. Mai più. Sono fatti miei. E nessuno deve occuparsene, cominciando da te. Volevo ringraziarla. Ho saputo che durante l'incendio, se non era per lei... Lascia andare, non è il caso di parlarne. Ma mi ha salvato la vita. Mi hanno detto che è stata lei, solo a gettarsi tra le fiamme. Non ho fatto niente di speciale, credimi. Per fortuna è andata bene e non ci sono state vittime. Si è fatto male. No, sciocchezze. E tu? Come stai adesso? Ti sei rimessa dallo spavento? Sì, ma non potrò mai dimenticare quel momento. Le compagnie urlavano, le fiamme stavano per raggiungerci. Ero sicura di morire. E poi qualcosa più forte di me mi ha spinta ad aiutare le compagnie. E dopo che l'ho fatto ho sentito che non potevo, non volevo morire. Non sarebbe stato giusto. Tu sei ancora tanto giovane. I giovani hanno il diritto di vivere. Sì, adesso mi sono accorta di amare la vita. Forse appunto perché stavo per perderla. Sa, è difficile spiegarlo. Ma io sento di voler bene a tutto il mondo. Alle mie compagne di lavoro, a tutta questa gente. Anche a quelli che non conosco. Le sembrerà ridicolo quello che dico. È proprio così. Sono contento di sentirti parlare in questo modo. È la prima volta che mi sento così felice, così serena. Perché fino adesso... Meglio non parlarne. Una vita triste. Io e mia madre sole a lottare contro tutti. E tuo padre? Non lo conosco. Non hai mai sentito niente di lui? No, mai. Ma non me ne importa. Ma se ti capitasse di incontrarlo? E com'è possibile? Non si è mai occupato di me. Probabilmente non sa neppure che sono al mondo. Sì, mi piacerebbe di incontrarlo. Ma per dirgli quanto l'odio, quanto lo disprezzo per il male che ci ha fatto. Ma forse lui non sapeva. Già, la solita scusa. Fanno tutti finta di non sapere. Che schifo. Mi scusi. E grazie ancora. Quanti giorni mancano? Ancora pochi. Il trappianto è finito. Adesso c'è la monda. Oh, non ne posso più. Oh, domani resta un branda. Già, una giornata e un chilo di riso di meno. Che cosa ne importa? Che cosa ne importa? Che cosa ne importa? Guarda, Gianni, come sono venuta male qui. Questa non mi piace. Troppa ombra sul viso. Sì. L'ho presa che era quasi buio. Ecco, questa. Ah, bella. Guarda quanti fiori. Molto gentile. Preferisci i fiori a me. Oh, che c'entra. Ecco. Questa è quella che mi piace di più. Fai vedere. No. Ti diverti, eh? Se non me la dai, me ne vado subito. E se te la do, mi dai un bacio? No. No, niente bacio, non te lo meriti. No. No, Gianni. Lo sai che non ci credevo che ci si potesse innamorare subito di una ragazza appena vista? Quanti progetti faccio. Ogni giorno ne invento una nuova. Mi sembra di essere tornato ragazzino. Forse perché lo sei stato così poco anche tu. Hai ragione. Tutta la settimana lavoravo. E alla domenica andavo a vedere gli altri bambini andare in giostra sul cavalluccio. E muovevo la testa su e giù. Mi illudevo un po' perché non avevi soldi per andarci. Anche se ci comprassimo una giostra tutta per noi, non avremo mai più quello che abbiamo perduto. Ci manderemo i nostri figli. Voi. Ci mancava quella ragazzina per fargli perdere la testa. E io devo sopportare anche questa umiliazione. Cosa credi che voglia fare? E chi lo sa, l'obbligherà a rimanere qui. E si farà menare per il naso da quella donnaccia. Ha, ha la sua età. E su una brutta strada, povero zio. È capace di rovinarsi. Eh, lo credo. Con l'amore che ha per la famiglia. Mica stupida quella là. Ecco perché si dà tante arie. Ma le farò abbassare io la testa. Magari salveresti lui e me. Gianni. Gianni, dove sei? Elena. No, mi sporchi tutta. Guarda come me è ridotta. Ah, niente di grave, un po' di sapone. Ma che è successo? Non ti aspettavo? Avevo tanto desiderio di vederti. Perché? Ti dispiace che sia venuta? Dispiace? Ma che dici? Ehi. Ti sei messo l'abito nuovo? Ti sei fatta la barba? Che succede? È un appuntamento importante. Molto importante. Vieni qui. Guarda. Che cos'è? Non hai letto? La signoria vostra illustrissima, che sono io, è pregata di favorire nel mio ufficio per importanti affari che la riguardano. Distinti saluti, avvocato Severini. E cosa vuole da te? Beh, pare che una grande casa di carburanti voglia offrirmi una rappresentanza. Un buon affare. Formidabile. C'è da guadagnare quello che si vuole. E vengono a offrirlo proprio a te. Già. E' quello che non capisco nemmeno io. Ma si vede che si sono informati. Pensa che fortuna. Adesso posso chiederla perfino in moglie, signorina. Oh, Gianni, sono tanto felice. Su, allora, presto, dall'avvocato. Ah, Gianni, non ci prestavo più. Mi aspetti qui? Qui? E se viene qualcuno, che gli dico? Ah, semplice. Gli dici, si accomodi. Io sono la padrona. Desidera. Ciao. Oh, prego, prego. Buongiorno. Buongiorno. Si accomodi, la prego. Eccomi qua. Prego, prego, si segna. E allora di che si tratta? Beh, io glielo ho già detto per telefono. Si tratta di un'importante rappresentanza. Se lei accetta, io ho qui il contratto. E' inutile che glielo legga tutto, no? Le solite modalità. In quanto alla percentuale, le viene riconosciuto il 25% sul prezzo di vendita. Più un premio annuale proporzionato all'entità degli affari. Contratto per due anni, rinnovabile alle stesse condizioni. Eh? D'accordo? Sì, sì, d'accordo. Ma scusi, avvocato, io ho una piccola officina in un vicolo. Per questa rappresentanza ci vorrebbero dei locali più vasti. Va bene, ma questa non è una difficoltà. Trasferisca l'officina. Trovi una bella sede, la metta su come si deve e... Ma per tutto questo ci vuole del denaro. Del denaro che io non ho. Va bene, ma lei non si preoccupi. Anche questa non è una difficoltà. Si capisce che ci vorranno delle spese, no? Lei avrà tutto il denaro che serve. Da chi? Ma da chi? Da chi è interessato in questo affare? Qualcuno che ha fiducia in lei. Chi è questo qualcuno che è disposto a spendere i suoi quattrini per far piacere a me? Ma scusi, lei di che cosa si preoccupa? Non ci vedo chiaro. Senta, giovanotto. Ma lei si rende conto che cosa significa questo affare? Sì, sì. Me ne rendo conto. Va di che certe occasioni non capitano due volte. Lei è giovane, deve assicurarsi l'avvenire. E poi avrà intenzione di mettere su una famiglia, no? Una famiglia? Che c'entra la famiglia? No, così. È un'eventualità probabile. Chi è la persona che si interessa degli affari miei? Ma non ha nessuna importanza il nome. Qui si tratta di stabilire. Voglio sapere chi è. Calma, calma. Si calmi, giovanotto. Non mi sembra il caso di prendere questo tono. Chi è? Gianni. Ma chi è? Che è successo? Ma insomma, si può sapere chi è? Dimmelo. Vallo a chiedere a lui. Ma di chi parli? Di lui, del tuo padrone. Non avevi capito, eh? Povera ingenua. Tu non sai nulla, vero? Io? La rappresentanza, il finanziamento, una bella sede, deve assicurarsi l'avvenire. Una buona trovata. Lui paga per mantenere l'amante e io me la sposo. Un sistema pratico, prudente, sbrigativo. Ma che dici? Sei pazzo. Dovevi sentire il modo con cui me l'ha offerto l'avvocato. Credeva che anch'io fossi d'accordo, tutti d'accordo. Ma io no. Io no. Io, grazie a Dio, ho le mani pulite. Va a dire al tuo padrone che se ne scelga un altro. Ha sbagliato l'indirizzo. Ma Gianni, io non capisco. E tu? Ti stavo ad ascoltare come uno stupido. Il fidanzamento, ti voglio bene. Sei stata brava a citarla a parte. Certo che è comica. Tutte quelle smorfie da innamorata. Le facevi anche a lui, anche al vecchio. E te le pagava bene, vero? Che schifo, che schifo. Tu pensi questo? Hai il coraggio di dirmelo? Non hai vergogna di parlarmi così? È contento, è contento adesso. Ha ottenuto quello che voleva. Ma cosa vuoi dire? Perché parti così? Gianni era tutto per me. La mia gioia, la mia speranza. Si è voluto mettere tra noi due. Ora è finita. Ho perso per sempre. Devo ringraziare lei. Ma perché? Perché? Che cosa vuole da me? Elena. Basta! Mi lasci stare. Non voglio più vederla, non voglio più sentirla. Elena. Elena! Elena! Ultimo giorno, ragazzo, si torna a casa. Già, con 40.000 lire e 40 chili di riso. Un chilo al giorno. E i dolori alle ossa per tutto l'anno. Verbati e angela, 37 chili. Perché 37 chili, se sono 40 giorni che sono qui? Perché sei rimastretto tre giorni, quindi 37 chili. E tu? Hai trovato marito? Ma che marito? Lo sai che mi hai risposto quando gli ho chiesto se mi sposava? Che me lo compro a fare la mucca sellata a così buon mercato? Che cavaliere! Che porco! Spogliari Gianni, 40 chili. E a te com'è andata? Che vuoi? Ma sì, quel giovanotto che usciva sempre con te. Che fa, ti sposa? Non gliel'ho chiesto, ma non me ne importa. Lo dici con una faccia. Pensa ai fatti tuoi. Avanti un'altra. Tocca a te. Nardi Elena, 40 chili. Avanti un'altra. Gerti Maria, 39 chili. Adesso fanno la serenata i padroni. È l'usanza. È l'ultimo giorno. Grazie, grazie. Se permette le cantiamo la serenata. Noi qui venuti E noi vi ringraziamo Saluti amori. Saluti amori. E noi vi ringraziamo. Saluti e compiate. Grazie. E tu Elena, non balli? Su, Allegra, divertiamoci La quaresima è finita Che fai, Sola? Vieni con noi Ma sì, anch'io voglio divertirmi Venite, ragazze, offro io Venite, ragazze, offri io Vediamo La casa è successo qualcosa? Voglio divertirmi, ecco tutto Brava E quelle sono tutte mondine? Sì E perché ballano? Per divertirsi È la fine della stagione della monda E domani tornano tutte a casa Vieni, Mario? Mario Aspettatemi al tavolo Vieni qui Che c'è? Ma come, domani partiamo Mi avevi promesso che ci saremmo rivisti Difatti, eccomi qui, guardami Sì, ma... Ma che cosa? Che ti sei messa in testa? Ancora vermuth per tutto Per me basta questo Non tanto, non tanto Basta Non bere troppo, ti farà male Mi fa bene, è proprio quello che ci vuole Finora Sono stata una stupia Adesso non mi importa niente di niente Ho cambiato idea su tante cose Vedrai Tu sai ballare? Non so fare altro E allora andiamo Gliacco Lasciami, lasciami Mi fai male Dov'è lo zio? Non lo so Era qui poco fa Mi ha detto che tornava subito E allora andiamo Le dispiace di ballare con me? Mi crede ancora a un mascalzone? Sì Ma non ha più paura, eh? No, non ho mai avuto paura di nessuno Brava, così mi piace Ma che cosa? Piange? Piango! Sono così allegra e ho tanta voglia di ballare Ma te l'asco, vuoi ballare da sola? Ma te lo stai in mente, le basta Dai Elena, brava, gira Dai, che spetta Che spetta Oh, da bene, che cosa vuoi fare? Perché non sei la tua stessa? Dai, che spetta Dai, che spetta Dai, che spetta Vada via E perché? Ho visto che piangeva Avanti, mi dica che l'è successo Mi lasci Mi lasci! No, no, no No, no Mi lasci! No Fio, non fare la stupida No, no, no Mi lasci! E adesso che sai, puoi capire tante cose La ringrazio e mi scusi Va, va No, no, no No, no Johnny! 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 No! Johnny! 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 Mario! Mario! È ferito! È ferito grave! Non respira più! È morto! Non c'è più niente da fare! L'hai ucciso! Johnny! Io ero venuta qui per stare sola! Volevo stare sola! Invece è venuto lui! Oh, Johnny, credimi! Sì, sì, ma sta calma, sta calma ora! Ti arresteranno! Che cosa sarà di noi? Che cosa sarà di me? È tutto per colpa sua! Se lei non si fosse messo di mezzo, Johnny e io saremmo stati felici! E invece, da quando l'ho conosciuta, non mi ha fatto chiedere male! Sapessi come la odio! Maledetto! Maledetto! È tuo padre! Elena! Maledetto! 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 Figlia mia, perdonami per tutto il male che ti ho fatto! Vattene! Nessuno ti ha visto! Torna a Novara! Prendi la mia macchina! Se ti domandano qualcosa, rispondi che te l'ho lasciato oggi in officina! Qui penso a tutto io! Su, andate! Ma che cosa vuol fare? Non preoccuparti, va! E va anche tu! Non disperarti! Non succederà niente al tuo Gianni! Aggiusterò tutto io! No! No! Ma perché? È stata una disgrazia! Ma la colpa è mia! Ma non capisci che si tratta di salvare lei! E se veramente le vuoi bene, non puoi rifiutarti! Su, andate che potrebbe arrivare qualcuno! E ricordati che non sai nulla! Non hai visto nulla! Ma io non posso! Che cosa non puoi? Vuoi la sua rovina? È il suo padre che te lo chiede! E te lo chiedo come una grazia! Salvando te! Salvo lei! Lei! La sola cosa che mi resta! Non è giusto! Non è giusto! Non è giusto che tuo padre faccia qualcosa per te! Ellen! Bambina mia! Guardami! Non ti chiedo di volermi bene! Lo capisco, è troppo presto! Ma dammi almeno la speranza che un giorno non sarò un estraneo per te! Uno qualunque! Non hai avuto che te il mare, Damien! È vero! È ora che voglio darti un po' di bere non vuoi! Perché? Ma che è stato? Mario! 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 Ma che gli hai fatto? Perché non mi rispondi? Mario! 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 Rispondi! Pronto! Buonasera, maresciallo! Sono Pietro Guerrini! Te lo prego! Ascassino! assassino assassino Quando scendo dal pancone Quando scendo dal pancone Quando? Come? Ma perché? Ma L'hanno arrestato Ma perché? Che è successo? Che ha fatto? Cos'è stato? Il padrone Arrestato Oh, in fondo mi dispiace Era un brav'uomo, va Ma guarda che disgrazie Hanno arrestato il padrone? Qualche cosa l'avrà fatta Oh, io dicevo che una volta l'altra sarebbe finito male Papà Figlia mia Oh, io dicevo che una volta l'altra sarebbe finito male Oh, io dicevo che una volta l'altra sarebbe finito male Oh, io dicevo che una volta l'altra sarebbe finito male Oh, io dicevo che una volta l'altra sarebbe finito male Oh, io dicevo che una volta l'altra sarebbe finito male Oh, io dicevo che una volta l'altra sarebbe finito male